Questo non è religioso Sì però c'è nel senso quei diversi bambini di apri Io rappresento il Guatomara Chi è lei? Per questa danna voglio manifestarmi In questo caso mi accompagna mio marito visto che non avevo nessuno del mio concittadino quindi mi accompagna mio marito Questa danna si chiama il Re C Serebbe dedicato a un re che ha aiutato in tempo della conquista e la città maia Quindi a voi Un applauso Di qua piena di signori veri e propri No 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 15 giorni.